Certamente l'Orchestra del Mediterraneo è centrale nella programmazione del Paola Festival in svariate formazioni e con tantissimi repertori. La serata dedicata al jazz è dedicata al grande jazz americano da Duke Ellington a Gershwin a Cole Porter, veramente grandissimi autori interpretati dalla splendida voce di Clarissa Vicky accompagnata quindi dall'Orchestra del Mediterraneo diretta questa sera da Gianluca Greco. Il repertorio è appunto molto diversi, siamo partiti con la musica barocca abbiamo questa meravigliosa serata di jazz ma avremo anche appuntamenti molto diversi tra di loro un grandissimo appuntamento dedicato alla musica da camera con due talenti d'eccezione che sono Pasquale Allegretti Gravina al violino e il pianista italo-americano Gabriele Castelli che ci regaleranno le più belle pagine di Procofiev, Chopin, Rachmaninoff e che si terrà però questo nella dimora storica Palazzo Stillo Ferrara. Sempre qui invece in Area Festival avremo il celebre soprano Katia Ricciarelli con il tenore Francesco Zingariello, l'Orchestra del Mediterraneo diretta dal maestro Nicola Barasco per un galà lirico veramente imperdibile con la grande opera ma anche con la grande canzone napoletana e andremo avanti con altri appuntamenti ancora diversi arriveremo anche a promuovere una serata dedicata alla tradizione popolare calabrese con la presentazione di un libro un po' particolare di Alessandro Sessa che declamerà dei passi di questo libro che si intitola Arburo Amico e si accompagnerà con la chitarra battente e canterà, sarà una presentazione e spettacolo davvero interessante. Sicuramente la nostra forza negli ultimi, insomma da quando siamo nati, quindi dal 2021 facciamo sostanzialmente un repertorio molto vario infatti sono molto contento stasera che l'orchestra abbia affrontato in questi due giorni di prova e stasera in concerto questo repertorio completamente diverso da quello che solitamente siamo abituati a suonare noi nasciamo come orchestra classica naturalmente, però in orchestra sinfonica classica però ovviamente abbiamo deciso di abbracciare altri repertori e in questi due anni tra l'altro veramente abbiamo abbracciato di tutto dal barocco al romantico al jazz, anche addirittura al pop perché abbiamo avuto l'onore l'anno scorso di accompagnare Robby Facchinetti nel suo percorso nel suo tournée in Italia che ha fatto, per cui sono molto contento che anche stasera a parte sono fiero e orgoglioso che altri direttori molto validi vengano nella nostra terra vengano a dirigere la nostra orchestra e non la reputo mia, la reputo nostra per cui sono fiero e orgoglioso perché ovviamente questo interscambio può solamente beneficiare i musicisti che hanno modo di crescere, anche loro affrontare repertori che magari mai avrebbero pensato di suonare e tra l'altro devo dire, voglio fare un ringraziamento a tutti loro, a tutti i professori d'orchestra che dall'inizio del nostro viaggio ci hanno accompagnato, questa orchestra e quindi sono molto contento che anche stasera abbiamo questo repertorio diverso diciamo dal solito, i nostri musicisti sono abituati a suonare a tutti i nostri musicisti sono abituati a suonare